Comart, l'azienda spagnola che da qualche anno ha sviluppato una gamma di veicoli elettrici, ha presentato a Parigi il restyling della Cross Rider e sullo stesso telaio ha costruito la Toy Rider, addiviti il primo al tempo libero ed il secondo a impieghi quali piccolo veicolo commerciale. Inoltre, il prototipo B-Cool è un piccolo veicolo a tre posti, ovviamente elettrico, ideale per gli spostamenti in città. Infine, c'è anche il veicolo da golf, ottimo per l'impiego nei complessi alberghieri e anche nei campi da golf, dotato da un motore da 3 kilowatt e 48 volt di tensione.